ciao continuiamo a leggere questo libro let's learn japanese la scorsa volta abbiamo letto i nomi degli animali e poi i nomi delle parti del corpo e poi il nome di alcune verdure vegetables oggi invece leggiamo alcuni frutti fruit e abbiamo albicocca anzi come la anna apricot abbiamo il melone melon melon abbiamo la mela ringo apple abbiamo la banana banana abbiamo il il come si chiama il mandarino mican mican tangerine abbiamo la fragola ichigo strawberry e poi abbiamo la pesca momo peach e poi abbiamo che cosa sakurambo cherry cherry la ciliegia e poi abbiamo l'anguria suica watermelon e poi le pere nasci per e poi c'è il caco kaki persimon e poi c'è la prugna ume plum questi sono i frutti fruit leggiamo invece cibo e bevande food and drinks e qui abbiamo il tofu che si dice tofu in giappone in inglese sushi che si dice sushi in inglese e poi sashimi e poi c'è pesce crudo raw fish e poi c'è miso shiru miso soup e poi c'è natto fermented soybeans e poi c'è riso cotto gohan o riso bollito cooked rice e poi c'è la salsa di soia shoyu soy sauce e poi c'è gyoza pot stickers e poi c'è il tè verde matcha powder green tea e poi c'è il latte di soia togno soy milk e poi c'è il pane pan bread e poi c'è il tramezzino sandwich sandwich e poi vediamo che cosa c'è i colori i colori abbiamo il grigio hairo gray abbiamo il nero kuro black abbiamo il viola murasaki murasaki e poi abbiamo il verde midori green e poi il blu ao blu poi abbiamo altri colori qua rosa pink pink bianco shiro white e poi abbiamo il marrone chairo brown il giallo chiro yellow e poi l'arancione come l'arancia orangi orange e poi abbiamo il rosso rosso h red e per oggi è tutto ciao ciao